Hola e benvenuti nel terzo episodio di Last Day on Earth Survival Questo video sarà senza la mia voce e senza la mia immagine perché mi sono ritrovata a registrare questo video mentre ero nel letto quindi sinceramente non mi sembrava il caso accendere la fotocamera e riprendermi mentre ero in fijama quindi vi lascio il video e spero vi piaccia Buona visione! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti